Perché desiderare una cabina armadio grande, piena di vestiti, scarpe e borse, quando usi sia noi il 20% di quello che già hai? Perché avere una dispensa piena di cibo quando i negozi ne sono pieni e non c'è segno di scarsità? C'è l'ossessione di possedere molte cose, siamo convinti che tanto è bene in qualsiasi caso, che avere tanto ci aiuta in qualche modo, ci dà sicurezza, solo che è benestante a tanto, o almeno così era fino a pochi anni fa, e noi vogliamo sentirci benestanti, se no perché avere di più? Perché c'è l'idea che così staremo meglio, che stiamo facendo progresso, più cose si accumulano e più ci sembra di ottenere qualcosa, ma è un'illusione perché le cose presto diventano dei pesi, delle ancore, creano confusione. In questo caso è difficile lasciare andare perché ci sembra di fare un passo indietro e così teniamo anche cose inutilizzate e inutili per noi, ma c'è anche un'altra ragione molto importante per questo. Sono Irina e ti do il benvenuto sul canale Spazio Grigio. Una cosa presa a caso, senza pensarci troppo, perché in offerta, perché carina, perché chissà magari un giorno mi servirà, ed ecco che acquistandola diventa mia. Questo passaggio in cui diventa mio è molto forte e non ci fa separare. Ora che è mio, fa parte della mia identità. Quasi come a separarci io perdo qualcosa. Eppure ci ho speso pochi soldi e non la uso mai. A lasciarla andare non perdo nulla. Eppure la sensazione di perdere qualcosa è forte. E così anche cose inutilizzate e inutili per noi diventano parte di noi. Perché succede questo? Ci identifichiamo con le nostre cose. Le usiamo per darci valore e identità. Per comunicare al mondo chi siamo. Creiamo un'idea di noi tramite le cose. Per gli altri, ma anche per noi stessi. Crediamo che diventiamo un certo tipo di persona possedendo determinate cose. Lasciare andare queste cose è difficile perché implica abbandonare l'idea che il nostro valore dipende dalle cose, ma anche abbandonare la nostra idea di quella persona che non siamo. Per lasciare andare queste cose quindi bisogna accettare che non sei quella persona. Io non sono quella persona che veste capi eleganti e tacchi alti. Posso lasciare andare questi capi e queste scarpe. Io non sono quella persona che fa sport a casa, che alza pesi e fa yoga. Posso lasciare andare questi oggetti a malapena usati che non fanno altro che ricordarmi che devo fare qualcosa che non fa per me. Io non sono quella persona che legge ogni sera un libro. Non è necessario quindi tenere tutti questi libri sul comodino. O forse non legge proprio e allora quella libreria piena di libri che non leggerai barra rileggerai servono appunto per darsi quell'identità di lettore. Oppure io non amo passare molto tempo in cucina e continuo a non utilizzare tutti quegli oggetti e aggeggi che ho acquistato con la speranza di fare tutto fatto in casa. Posso lasciarle andare e lasciare andare quell'idea di me che non sono. Spesso è proprio ciò che non siamo o in cui non siamo bravi quanto vorremmo che sentiamo la necessità di avere o di mostrare agli altri o a noi stessi tramite oggetti, vestiti o altro. Per riuscire quindi a liberarsi da questo attaccamento alle cose è necessario osservare, semplicemente osservare i nostri pensieri riguardo alle cose, le sensazioni ed essere onesti con se stessi aumenta così la consapevolezza di noi e di ciò che ci circonda e diventa più facile staccarci dalle cose perché le cose non mi definiscono non rappresentano chi sono io le mie passioni, le mie conoscenze non devo avere enciclopedia in mostra per mostrare che io so. Una domanda alla quale potremmo rispondere è come mi sentirei se venisse rubato? Provate ad immaginare che quella cosa viene rubata più ci sente arrabbiati e in ansia e più significa che siamo attaccati a quella cosa e più significa che bisogna lasciarla andare o quantomeno renderci conto che senza quella cosa noi siamo sempre noi non siamo in nessun modo inferiori, incompleti o quant'altro siamo sempre completi e sufficienti una volta che ne diventi consapevole inizia la trasformazione qualcuno dirà e chi me lo fa fare? tengo tutto e sono a posto imparare a lasciare andare le cose ci aiuta immensamente nella vita perché c'è sempre qualcosa da lasciare andare un oggetto perché rotto o perché non ci sta più bene anche se lo adoriamo un pensiero negativo una persona che ci ha lasciati un lavoro che ci sta stretto una casa che non è più adatta a noi dei ricordi del passato e essere in grado di farlo senza che questo ci distrugga è ciò che fa la differenza tra una vita libera leggera in crescita e una attaccata al passato incapace di credere in se stessi non è possibile farlo da un giorno all'altro quindi inizia con un primo passo lasciando andare dei vestiti che non usi mai anche se piacciono teoricamente anche se hai speso soldi ovviamente comincia da questi e vedrai poi che riuscirai ad accettare i grandi cambiamenti con più facilità e fare di questo la tua forza trovi nella descrizione del video la mia guida gratuita per minimalismo e decluttering così come trovi il mio profilo instagram dove pubblico più contenuti e il link della newsletter che invio ogni domenica con pensieri riflessioni prodotti preferiti e aggiornamenti vari se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un mi piace un commento iscriviti al canale per altri video che fanno riflettere ci vediamo al prossimo video e fino ad allora ti auguro di credere in te peace